Rimossi 212 ombrelloni e 122 attrezzature banneari sulla spiaggia libera di Pineto. Proseguono le operazioni di controllo del litorale della provincia di Teramo da parte del personale del corpo delle Capitanerie, al fine di evitare comportamenti scorretti da parte di utenti del mare che con scarso senso civico installano attrezzature da spiaggia lasciate incustodite oltre il tramonto per avvicinarsi quanto più possibile alla battigia. Compromettendo il corretto e libero utilizzo del pubblico demanio marittimo. A seguito delle verifiche condotte nei comuni di Tortoreto e Martinsicuro, nei giorni scorsi i militari dell'ufficio locale marittimo Guardia Costiera di Silvi hanno effettuato una ricognizione dei tratti di spiaggia libera lungo il litorale del comune di Pineto. L'operazione notturna, svolta congiuntamente a personale della Polizia Locale di Pineto ed operatori di una ditta specializzata, rientra nell'ambito dell'operazione Mari e Laghi Sicuri 2024 che vede impegnato quotidianamente, lungo tutta la fascia costiera, il personale del corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera. Le verifiche condotte hanno consentito dunque la rimozione di 212 ombrelloni, 122 attrezzature balneari, sedie, sraio, lettini, oltre a materiale vario, quali giochi e materassini. Le attrezzature balneari lasciate incustodite sulle spiagge libere sono state affidate alla locale società assegnataria del servizio di gestione rifiuti. Questa volta però le operazioni sono state eseguite di notte, probabilmente per evitare quanto accaduto un mese fa a Tortoreto, quando due turiste hanno denunciato il comune perché, sostengono, erano andate di buon'ora a fare una passeggiata, ma al ritorno non hanno più ritrovato ombrelloni sdraio.